bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questa nuova live oggi è una live estremamente particolare estremamente importante perché andiamo a fare una serie di analisi sui mercati che oggi ci stanno dando un minimo e un piccolo pump dopo veramente settimane di devastazione ribassista allora ci rivediamo anche con molti di voi dopo la questione di roma dopo esserci visti alla blockchain week rom e sicuramente insomma ragazzi è stato un evento spettacolare e soprattutto mi fa molto piacere vederci dal vivo ragazzi perché dal vivo si vede un po si ci confronta veramente poi online insomma tutto bello però è molto 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 anche distaccato mentre quando siamo insieme quando siamo dal vivo veramente c'è un affetto incredibile ragazzi incredibile faccio un metro ogni due ore perché vengo accerchiato costantemente allora è una cosa molto bella stancante non mi nascondo una casa con gli incubi però veramente molto molto bello poi per fortuna la sera post evento insomma eh si andava a sbevazzare tutto passava allora intanto ciao a tutti eh focus sui grafici sì oggi assolutamente focus sui grafici e una live strastra importante anche perché il mercato ha ripreso eh di gran lunga a eh spingere e ovviamente insomma eh pochino non tantissimo anche perché è un rimbalzo assolutamente atteso quello del ciclo mensile della del mercato di bitcoin ed è anche insomma abbastanza eh diciamo eh standard poi però bisogna andare a vedere se effettivamente eh durerà nei prossimi mesi e quello proprio il lo insomma l'argomento su cui abbiamo eh fatto la nostra analisi di ieri eh allora andiamo a rivedere un po' tutto andiamo a vedere un po' il eh la questione del dei grafici e e anzi facciamo una cosa ragazzi gli do subito un un input ehm perché è divertente questa cosa qui nella scorsa eh nottata praticamente è rientrato long su bitcoin ehm uno dei miei sistemi holding quello che era uscito famoso a Miami e dopo aprile dopo due mesi e mezzo due mesi circa due mesi ai primi di aprile l'uscito eh è ritornato long ieri stanotte alla chiusura del daily chiaramente perché ho avuto il breakout io l'ho seguito come faccio sempre non mi aspetto grandi risultati da questa operazione sono convinto cioè sono insomma un po' così titubante però le macchinette come scritte in academy ragazzi si seguono perché sono dei sistemi di trading che vanno seguiti quindi sono di nuovo long sulla posizione holding di bitcoin dopo essere uscito con eh a 45 mila e passa l'ho anche scherzosamente inviato diciamo ad alcuni amici della eh di Miami quando eravamo lì ho detto va ha portato fortuna l'ultima uscita ho detto adesso vediamo se riporta fortuna questo ingresso però eh insomma ragazzi allora eh ho detto proprio lo condivido anche con voi tanto è una eh sistema di training che mi gestisce le posizioni in holdo in questa fase perché è una fase estremamente delicata dei mercati e quindi preferisco eh dare sempre tutto a eh in passo alle macchine anche se come vedremo diciamo in questa live non sono molto convinto della durata di questo rialzo perché soltanto una ipotesi potrebbe essere ehm indicativa del fatto che questo tipo di rialzo possa veramente durare tanti mesi in realtà siamo davanti al nuovo trimestrale nuovo mensile di cui ne abbiamo parlato ieri e eh questi rialzi fanno parte del nuovo mensile anzi eh dovrebbe essere confermato proprio in questo momento se chiude anzi mi faccio vedere il grafico come eh d'analisi di ieri perché se chiude al di sopra eh di questo livello eh conferma il nuovo ciclo mensile vedete insomma qua ragazzi ieri ci ha chiuso su però era una chiusura un po' indecisa eh io insomma vorrei vedere il mercato ancora un poco poco più forte e salire qui poi adesso andiamo a fare anche un giochino magari in questa live andiamo a vedere eh dove possiamo salire con questo nuovo ciclo mensile di di bitcoin perché poi la chiusura dovrebbe essere intorno alla zona di eh metà giugno eh e quindi siamo sicuramente se va su così in un ciclo che dovremmo essere al rialzo quindi un ciclo rialzista di di bitcoin eh ci può stare perché è il primo del trimestrale esattamente come vi eh accennavo ieri comunque eh intanto vi eh saluto e vediamo un po' come state insomma datemi allora il pump diretta ciao trader o BTC eh proprio diretta è sempre la soluzione migliore perché eh fa ben sperare ma in realtà ragazzi il vero obiettivo di questo rialzo non deve essere quello di tornare a in ehm ai massimi storici anche perché ripeto è molto difficile una cosa del genere molto remota però più spazio fa salendo meglio è perché eh l'eventuale fase di chiusura del ciclo annuale dovesse ancora eh appunto essere in ballo l'ipotesi uno quella che seguiamo da gennaio con la chiusura del ciclo annuale d'estate eh partirebbe poi da un prezzo più elevato ed è questo è il vero vero obiettivo di questo rialzo eh lo so che magari un po' eh lascia un po' così eh ti dubanti molti però è proprio così allora eh ciao frusta ok dai ogni momento ciao Rob come stai? Allora sta spogando nove settimane di ribasso assolutamente sì nove settimane rosse ma soprattutto sta facendo un rimbalzo che eh al momento mh è appunto un rimbalzo ho già pronto il long x alleva 100 sulla chiusura positiva di oggi eh eh sì perché andiamo in un nuovo mensile però in realtà le mie macchinette sono entrate ieri alla chiusura del del daily di ieri allora btc al 3002 invertiamo sul breve sì no sul breve già invertito ieri eh breve intendo time frame un'ora eh 15 minuti insomma ok quindi il se tu intendi invece forse tu intendevi il trend di breve quindi il mensile eh sì i inverte sopra il 32 e due e confermando che è iniziato un nuovo ciclo mensile il problema poi è comprendere dove va questo ciclo mensile però già ci dà un'ottica differente perché quello che era la fase di bassista si è conclusa la precedente e inizia una nuova fase che teoricamente però appunto come vedremo oggi dovrebbe essere il cosiddetto ehm eh ciclo o trimestrale finale dell'annuale detto così insomma sembra non ce li dico ciao Teone ok eh ciao Crypto Inge ok ehm vabbè questa non so che significa non lo voglio sapere vabbè eh Mauros ma se facesse un engulfing bullish eh sul settimanale sarebbe un bellissimo segno sì certo però allora ha bisogno di distinguere l'anisi tecnica in questo fase ragazzi ehm dalla questione legata alla ciclica perché ehm non c'è eh nessuna anomalia in questo trend così anche io eh ieri quando ho detto ai ragazzi stanotte veramente alle due di notte italiane ragazzi rientra il loading io lo seguo però ho spiegato che non c'è niente di strano in questa posizione long perché è l'inizio di un nuovo ciclo trimestrale e l'inizio di un nuovo ciclo trimestrale un mensile rialzista ce lo fa o più o meno una parte rialzista ce la fa il problema è capire se in effetti se ehm siamo invece in un'anomalia e quindi l'annuale troncato sul minimo del dodici di maggio perché se fosse in quel modo allora avremmo molta più possibilità di fare un movimento eh estensivo cioè che magari dura trenta quaranta punti percentuali e non i soliti dieci quindici ecco questo eh e questo lo vediamo magari ne parliamo anche oggi di di questa cosa qui eh i 20k spero rimangano ipotesi di bottomo allora i 20k ripotesi di bottomo tutto dipende da questo ciclo trimestrale eh che ci che andiamo a confluire non è possibile che un ciclo trimestrale in questo caso appartenga a ehm che sia in sostanza rialzista e non conclusivo dell'annuale se non appartiene a un nuovo annuale perché l'annuale precedente è ribassista al mercato quindi questo significa che se l'attuale ciclo trimestrale i 90 giorni che dovrebbero essere iniziati eh sono al rialzo probabilmente siamo in un'anomalia tecnica appunto nell'annuale differente però al momento ragazzi questi questi rimbalzi sono eh diciamo normali ecco tutto qui va bene dipende da dove ci fermiamo sì adesso andiamo a fare un po' di roba perché c'è veramente tanto da dire anche perché becchiamo proprio un pump in diretta ed è sempre la soluzione migliore ehm eh facciamo anche un'altra cosa vi faccio vedere anche subito la questione di ETH ETH allora è sempre più debole su BTC allora ragazzi io lo sapevo che quando ho fatto il video ieri di ETH un po' eh qualcuno avrebbe ehm ragionato eh voglio approfondire proprio in questa live il pensiero perché una cosa è fare delle analisi una cosa è comprendere perché valutiamo queste analisi quando eh nel discorso di ieri che vi ho fatto relativo alla questione di ETH questa è la total market cap di ETH e vi ho spiegato il cosiddetto baratro no la presenza del eh regina dell'ecritto su un livello che è questo qui di supporto che è estremamente rilevante e quindi è come se la regina dell'ecritto stia guardando eh su un burrone per fare un tuffo no? Eh allora questo livello non è non è che un livello di di price ehm ragazzi può essere inventato cioè questo non è un livello inventato questo è un livello che esiste quindi il problema è riesce la regina dell'ecritto a non crashare al di sotto di questo livello perché purtroppo per come la configurazione della struttura di eh Ethereum compresa questa famosa eh linguettina qui che qualcuno di voi ormai ricorda essere appartenente a una barra di distribuzione stile Wallikov se va a crashare qui qui si attivano una serie di meccanismi di natura psicologica di stop loss di ehm bot che vanno a innescare la spirale di vendita quindi quello che succede è che c'è un flash crash come è avvenuto il flash pump di Bitcoin ieri perché ha breccato il livello di resistenza o ci sta tentando infatti vedete che è molto ha molto difficoltà esattamente eh i i i HFT esattamente cioè si attivano gli frequency trading poi vanno in stop tutte le posizioni questo genera un flusso e se il break viene poi confermato senza magari l'intervento manipolatorio in questo caso magari di qualcuno che blocca la fase di bassista e poi va giù questo è è il problema va giù e innesca il principio riflessivo dei trader degli investitori quando il trend inverte ovviamente i trader professionisti non vanno lungo sul mercato ragazzi aspettano che il mercato dia segnali poi va chi vuole comprare mentre le cose cadono ma eh a parte stati c'eri training intraday che si possono fare eh quando diciamo i coltelli cadono quello è un altro tipo di discorso però chi fa ehm investimenti medio lunghi non compra una cosa che crolla eh a meno che non è lunghissimo lunghissimo periodo quindi come per esempio può essere El Salvador che va a fare incetta magari di Bitcoin perché gli servono per un'economia reale che è un'altra cosa quello sono concetti non dai investitori ehm però una cosa del genere è pericolosa e allora è questo il concetto del video che ho fatto ieri su Ethereum ragazzi intanto ehm o mh bisogna vedere un po' quello che succede dopo il merge perché il concetto di Ethereum è che Ethereum cambierà radicalmente dopo il merge quindi sarà un'altra cosa quindi anche tutto quelli che sono i grafici che noi abbiamo visto finora su ETH non valgono più teoricamente ragazzi perché cambia la struttura dell'asset non è più lo stesso quell'asset quindi andiamo a vedere una cosa una figura del passato che però non ha nessuna matrice eh strutturale fondamentale eh nel presente quindi quando Ethereum farà questo merge se dovesse farlo veramente insomma se Vitalik insomma quando ormai dico Vitalik ragazzi mi viene in mente la ragazza eh del body painting della VBR e perché era vestita era era dipinta da con Vitalik sul fondo schiena ed era insomma ormai è diventato una comica questo meme che avete visto anche girato vabbè comunque in linea di massima eh eh sì vabbè era in realtà era svestì sì però era brava la vabbè era molto brava ehm e e in linea di massima ragazzi quindi concetto Ethereum è proprio questo qui dobbiamo assistere al merge il merge cambia tutte le carte in tavola quindi annulla il grafico passato e lo continueremo a guardare ma con l'occhio riflessivo del fatto che che stiamo vedendo una cosa che non esiste più e poi non si sa come il mercato prenderà questo merge perché noi diamo per scontato che questo concetto dello della proof of stake il mercato la prezzi non è detto che sia così non lo sappiamo questo è il discorso non lo sappiamo perché ci sono tanti 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 tante cripto che assomigliano poi ad ETH in quel caso quindi è vero che ETH sarà molto più decentralizzata con numero di validatori ma anche è vero che sarà molto più copiabile da certi punti di vista da molti altri progetti e bisognerà vedere cosa approcciano tra le altre cose ho letto diversi articoli anche che eh massimalisti bitcoin sì no quelli erano articoli di grande cultura informatica e e quindi eh vanno presi assolutamente sul serio dove indicavano il fatto che ETH in questo modo eh cambia un po' il concetto della centralizzazione viene meno tutto quello che è la battaglia del mondo cripto eh ed è proprio attraverso l'eggine del cripto che col proof of stake praticamente avviene eh questa cosa è un pro e un contro bisognerà vedere io non sono di parte ragazzi a me non interessano gli le ideologie in questo caso mi interessa il concetto eh del eh vedere se qualcosa porta qualità e porta valore aggiunto alla nostra vita quindi al mercato mondiale in questo caso mi sa di tiro me lo farà ben venga ci mancherebbe allora questo non lo conosco però ciao qua busto che è il contrario del cagli di patro assolutamente va bene allora ho chiarito un po' la questione ETH proprio per spiegarvi eh anche un po' il video di ieri io andrei adesso a vedere eh qualche graficuccio differente eh e poi eh diciamo ne parliamo i miner ad esempio damperanno è probabile è probabile che i miner che sono una grande fetta indirizzino ma soprattutto è probabile che tutta quella potenza di calcolo della proof of work di ETH confluisca da qualche altra parte e questo è un problema cioè bisogna vedere non non abbiamo nessuna idea proprio nessuna idea possiamo fare solo opinioni in questo caso e tirar giù ehm insomma delle 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 idee allora dici che che spizio se ETH è già sta a baggare allora il problema è che proprio sembrerebbe proprio che il crash della settimana scorsa si è dovuto proprio al bug che ha innescato indovinate un po' una spirale a catena perché alcuni hanno iniziato a vendere per via di questo bug che eh nel merce non dovrebbe esserci però mentre vendevano hanno innescato le macchinette che hanno iniziato a stoppare a liquidare le posizioni si è innescato la spirale immaginate un po' che si che succede insomma se si brecca a quel livello lì magari con un merge con qualche difettuccio un disastro è perché il mercato poi va in panico ragazzi e non è che il mercato che in questo momento è viva in uno stato di eh vegetazione floreale tutta alle grotta vive un po' no in con un po' di terrore diciamo così va bene ok va bene eh andiamo avanti ragazzi allora io farei così parlerei prima della questione è bitcoin e farei un parallelo con anche il il nasdaq perché vediamo se intanto vi trovo l'indice di correlazione con eh con il con il nasdaq che vediamo non mi ricordo mai dove la metto il ehm il grafico ok allora qui abbiamo l'indice di correlazione adesso ve lo eh sistemo ragazzi velocemente perché l'indice di correlazione con eh con nasdaq ragazzi eh non riesco a ad averlo però lo abbiamo con standard impulse 500 è similare non è lo stesso diciamo però eh ci può assolutamente stare insomma non è un grave problema andare a a ok eccolo qui andare a ragionare un po' così più eh più standard allora intanto vediamo un po' eh la situazione allora molti dicono si è perso l'indice di correlazione ora senza modificare quindi lasciando quelli che sono i dati ehm l'indice di correlazione che è leggermente più decorolato e questa gambetta che vedete qui al ribasso ragazzi giusto così io vi spiego il la differenza fra dato ok e pescerine va bene che ha che che insomma eh insomma si dice comunque si da qua qua va bene però eh non è che è cambiato il trend allora quando cambia l'indice di correlazione quando ehm come vedete dal duemilaventi duemilaventuno eh soprattutto da settembre del duemilaventuno il mercato il bitcoin è standard pull 500 ma lo stesso per nasdaq si sono ampiamente correlati fino addirittura ad avere una un indice di correlazione intorno allo 07 ragazzi che praticamente è una correlazione vera e propria ovviamente è momentanea perché nel momento in cui questo eh questo indicatore dovesse eh per caso andare a eh inclinare il trend questo trend che vedete se dovesse andare a invertire questo trend e riportarsi al di sotto di questa zona allora solo allora saremo nella tasso di correlazione standard che bitcoin aveva avuto negli anni precedenti alla questione pandemia quindi in questo momento il tasso di correlazione è leggermente diminuito in termini non di breve di stra breve periodo ha fatto questa gambettina che vedete qui quindi non è cambiato assolutamente nulla ecco perché eh andiamo a vedere quello che è il tasso di correlazione con nasdaq intanto vediamo tre dobbicci hai visto nasdaq ha chiuso un bel più sette per te del trend in breve perlomeno sì nasdaq ha fatto più sette eh e per quello che tu vedi questa gambettina di decorrelazione perché in una settimana in pratica si sono decorrelati eh però eh non non si può parlare di inversione di trend per esempio della decorrelazione perché almeno dovremmo avere un indice che riscende sotto lo zero cinque per avere una decorrelazione in questo caso lo standard impulse non con nasdaq ma la soluzione migliore sarebbe il rientro eh sotto gli zero tre che in quel caso indicherebbe nessuna relazione tra i strumenti o una relazione di natura spuria quindi insomma ehm insomma questo è il discorso generale andiamo a vedere quindi una eh questione legata sia a bitcoin ma anche nasdaq perché su nasdaq volevo vedere ragazzi anche la configurazione del ciclo ehm del 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 ciclo di eh eh mensile poi ehm vediamo se se lo ecco usiamo il il US 100 così siamo più tranquilli eccolo qua allora il ciclo mensile di nasdaq ha un minimo più definito di quello di bitcoin se noi ipotizziamo una sorta di relazione fra questi due strumenti eh ci indica che in teoria vedete la struttura del ciclo dovrebbe essersi chiusa secondo me ancora una volta intorno al 20 di maggio perché abbiamo un minimo proprio in questa fase è anche vero che proviamo a guardare ok no ragazzi scusate che non vorrei eh essendo che sto facendo un'analisi su un derivato che è il US 100 e non il vero nasdaq cioè non il vero future allora eh sono andato a guardare quello che era il vero nasdaq perché il nasdaq su tre in più me lo danno ritardato di un po' e quindi eh uso eh il 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 CFD allora andiamo a vedere questa struttura mensile che ehm è iniziata un po' in in questa fase vedete qui abbiamo un minimo rilevante e qui una chiusura quindi sono 66 eh giorni e sono due mensili di nasdaq questi sono ternari adesso ve li faccio vedere comunque a noi interessava non guardare i cicli di nasdaq ma vedere solo e unicamente eh la struttura che fosse di natura uno due e tre questa zona qua anzi se da qui a qui è un ciclo ve lo disegno malissimo eccolo qui perfetto ragazzi allora questa è ehm la struttura ternaria di di nasdaq magari la dipingiamo con un bluett così si vede che ha fatto due mensili di natura ternaria fatti in questo modo qui quindi in teoria nasdaq ha chiuso il suo ciclo mensile il venti di maggio il diciotto bar di maggio teoricamente se torniamo sul BTC potremmo anche arbitrariamente indicare quindi la chiusura reale di questo ciclo con il diciotto di maggio questa zona qui ed era un po' quello che vi avevo detto e il perché eh ero titubante su farla su farla chiudere il dodici proprio perché in questo caso eh è vero che abbiamo lo swing però è vero che è successo un patatracca eh e la questione mi portava a sfasamento con nasdaq comunque è un po' un esercizio diciamo di fatto perché poi alla fine eh dobbiamo sempre seguire il trend ragazzi al di là della struttura ciclica e solo il successivo ciclo ci darà risposta poi c'è anche un altro contesto ragazzi cioè il fatto che ethereum ha chiuso un ciclo il ventisette di maggio ehm non lo sappiamo con certezza perché su ethereum la questione è molto complicata ragazzi molto infatti per esempio il mio sistema è entrato lungo su BTC eh ma non su ETH su ETH no è molto lontano ancora dall'ingresso deve salire un po' per entrare con il sistema a break even ah scusa a breakout e questa zona qui eh insomma va un po' vista perché ragazzi se il ciclo mensile di ethereum è iniziato il dodici invece quindi ci stiamo sbagliando a seguire in pratica nasdaq e qui siamo a metà del ciclo quindi al prossimo quindici alla insomma i due se le due settimane quindi quindici giorni in teoria questo ciclo chiuderebbe il dodici di eh giugno ed è già ribassista quindi se il ciclo mensile non è iniziato sulle cripto in questa zona qui quindi con un'anomalia ma sul minimo della questione luna questo ciclo è ribassista quindi ethereum non ha scampo mentre quello di bitcoin no quello di ethereum sì quindi ancora una volta è molto rilevante andare a vedere e a comprendere questa cosa qui ragazzi quindi è nasdaq che in questo momento ci dà una direzione essendo correlato a bitcoin oppure è diciamo il minimo lato solo cripto quindi non lato mercati hold lato solo cripto che fa da 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 riferimento perché se noi andiamo a ragionare così siamo messi in questo modo quindi i conti tornano alla perfezione anche su bitcoin ragazzi perché qui siamo alla tredici quattordici giorni quindi andiamo a chiudere intorno al dodici di giugno stiamo facendo il massimo del ciclo mensile così costruito e poi andiamo in chiusura però se questo è valido il ciclo mensile di ethereum è al ribasso quindi in teoria deve breccare gli ultimi minimi scendendo sotto allora non non è fa vedete come si vanno a incatenare tutte queste ipotesi con grande difficoltà mentre su bitcoin non abbiamo vincoli al ribasso perché il locialo è molto lontana io sono più propenso a spingere l'idea che il ciclo delle cripto bitcoin l'abbia chiuso il 20 maggio il 18 scusate con il minimo del 20 di nasdaq e che ethereum abbia chiuso sull'ultimo minimo un ciclo diverso perché solitamente non era strano che ethereum allungasse poco poco i cicli e li andasse a chiudere qualche giorno dopo bitcoin quindi non mi diciamo crea tanto disturbo ragionare in questo modo intanto abbiamo arem che sta facendo il il corso basic allora intanto ciao ehm sono molto contento eh per i complimenti ehm allora e sono usciti oggi scusami perché non ho inviato a ho scritto solo a quelli in academy non ho inviato la mail a tutti i corsisti il corso basic 2.0 è tutto aggiornato manca una lezione perché la sto cambiando e quindi eh quella precedente la la modifico quindi troverai tutti i gli aggiornamenti già presenti allora tornando a noi ragazzi questa è la ehm è il dilemma allora ci serve qualche altro giorno per comprendere questa cosa qui perché eh dovremmo capire come vanno i cicli appunto nella metà del mese di giugno non abbiamo informazioni ma non li usiamo per operare in questo momento perché in effetti siamo andati long a prescindere perché se la eh train system segnava long a prescindere dal fatto che se se bitcoin è iniziato il ciclo il 12 di giugno questo long a vita breve ragazzi perché se andiamo in chiusura così abbiamo vita breve proprio per il fatto che eh insomma da qui si ritorna all'interno di questo di questa zona però quello è un train system che ragiona holding quindi è molto lungo funziona fa un'operazione di due mesi ragazzi quindi eh serve soltanto a a posizioni di lungo periodo quindi ci può stare poi ha ha evitato una perdita di oltre il trenta per cento nella scorsa operazione quindi che perda un'operazione ci può stare insomma è un sistema ragazzi i sistemi non guadagnano sempre hanno anche delle logiche statistiche quindi ci può stare che questa la perde ve lo dico proprio chiaro non è anomalo ehm ma io ovviamente sono un po' nel dubbio di questa eh chiusura mensile Nasdaq comanda oppure eh bitcoin eh ed Ethereum con il 12 di maggio in quel caso Ethereum messa malissimo perché sarebbe già ribasso l'intera struttura quindi l'intero ciclo trimestrale tutto quanto mi sembra una seggiore azione ve lo dico francamente e anche per questo che al momento io propendo principalmente per avere un'idea che il ciclo di Ethereum si sia chiuso proprio sul minimo della della scorsa giornata e quindi vi faccio vedere questa eh teoricamente dovrebbe essersi chiuso in questa fase qui magari ecco ragazzi non era iniziato proprio il 7 ma magari qui intorno alla al 13 perché qui non si vede niente però non so ragazzi preferisco ragionare in questo modo perché se dovesse esserci un nuovo mensile da qui siamo messi male 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 e è anche vero che questo non è un'anomalia da da figurazione di un mese ragazzi perché molto spesso alcuni mensili sono proprio così quindi andremo a vedere vediamo se neanche fa un doppio minimo magari insomma questa cosa la vediamo in ogni caso fate molta attenzione ad ETH proprio perché la questione non è a caso che anche ieri ho specificato questo problema può eh andare in siluro può salire ragazzi perché qui siamo in un mondo aleatorio ci mancherebbe perché non è che abbiamo la palla di vetro però quanti dati ci portano a dire che in questo momento esporci troppo forze su questo tipo di asset questa cripto regina è sconveniente rispetto a bitcoin perché a questo punto abbiamo un bitcoin che ha un nuovo ciclo mensile ancora non breccato quindi sicuramente in stato un ciclo mensile e sicuramente ciclo mensile di bitcoin non ha breccato il minimo poi non abbiamo il merc su bitcoin se i mercati sono deboli bitcoin solitamente oscilla di meno insomma io credo che questi ragionamenti l'ho detto anche a molti di voi alla bvr lo stiano facendo anche gli istituzionali su ethereum e quando ci sono delle innovazioni importanti molti un po il treno a mano lo tirano ragazzi e la pericolosità magari di alcuni investimenti eh la ritengono un po più insomma di di insomma più eccessiva quindi tirano i rami in bacche intanto saluti hard rock non so chi sei sarai ricche comunque ciao ciao top ok in effetti con lui ne abbiamo parlato in notte fonda a villa youtuber ragazzi eravamo in notte fonda del mio amore di queste cose va bene allora detto questo facciamo un giochino andiamo a dedicare questo pezzettino della live eh che oggi durerà un'ora precisa ragazzi quindi fra mezz'ora chiudiamo la dedichiamo a creare eh no intanto non mi fare ridere lì il tv sai perché ho lo sfondo né va bene ok è una comment questa cosa va bene eh ciao Andrea benvenuto anche te ehm e eccetera va bene eh ok e va bene top top Rick top eh dobbiamo farla insieme dovevi venire anche tu in live qui allora facciamo ehm eh in questo modo ragazzi andiamo a ragionare sulla eh questione anomalia ciclo annuale di bitcoin un ciclo di due anni insieme anomalo diviso a tre tempi quindi con cicli annuali corti trecento 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 e ehm eh simpatico perché sarebbe un allungamento un allungamento del ciclo dell'alving anomalo rispetto al passato cioè una struttura completamente diversa a che serve fare questo tipo di esercizi di 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 ragionamento a prepararsi ragazzi perché perché noi non siamo qui a vedere il futuro nessuno di noi può prevedere il futuro ma ci possiamo preparare ai possibili eventi uno dei due è giusto allora quando noi andiamo a ragionare in questo modo ragazzi puliamo la nostra mente chiariamo quello che fa il mercato chiariamo tutti quelli che sono i nostri pensieri a quel punto quando avviene un movimento sappiamo perché per come per quando in anticipo viviamo più tranquilli siamo più insomma sereni eccetera quindi la logica dello sviluppo di ipotesi contrastanti da parte di un analista di un trader è la bc del trading quindi l'analisi non serve a prevedere il futuro ma serve a prepararsi agli scenari e in questo modo noi ci prepariamo a un altro scenario questo attuale è uno scenario estremamente eh insomma che stiamo seguendo da gennaio no e quindi questo scenario lo abbiamo visto in teoria rimbalziamo per un mese massimo due e poi andiamo in chiusura ciclica l'altro è ha chiuso sul minimo del 12 o del 20 di maggio che che sia un ciclo ternario da 300 giorni di un annuale cotto vi dico già da subito che questa ipotesi è peggio del della prima quindi io sono dell'idea che è meglio che il mercato segua la standard per tanti motivi perché questa potrebbe essere peggio comunque andiamola a vedere tanto vediamo che scrive meglio che non sono venuto che poi i due follower mi picchiano riguardo al mio od od del modo a ricca e od del modo a vita natural durante ragazzi io cerco di convincerlo ogni tanto durante i pranzi e gli dico guarda studia fai il tre le cose eccetera tre desideri or friend però niente insomma lui è più dicevo è più od del modo va bene edox mi dice ciao ma potresti dirci quali libri studiare per formarsi sul trading allora sul trading io ti consiglio di iniziare dal libro di marfi analisi tecnica dei mercati finanziari anche quello di pring lo puoi utilizzare trovi anche dei pdf online se vuoi dare un'occhiata al programma è un libro vecchio ti insegna le basi dell'analisi tecnica poi come si va a applicare quel tipo di analisi è ben diverso nella realtà dei fatti quello purtroppo dovresti leggere veramente tanto comunque un altro libro che mi piace tantissimo è il nuovo vivere di trading di elder perché l'ho usato per fare una lezione nel mio corso e spiegare una tecnica che uso anche qui con voi questo è un bel libro ma dopo quello però questo qui è un po più moderno ma è anche molto molto leggerino è quindi insomma se fai solo quello poi non è che tanto insomma ne ottieni di più va bene allora andiamo vedere questa view e poi passiamo alle alle domandone va bene dove la vediamo questa view su bitcoin long period ok di ampro ok ci siamo ragazzi andiamo a prendere questa analisi anzi facciamo così quasi come ho fatto un altro tipo di analisi e poi succede un casotto la vediamo su questo perché voglio fare un'analisi pulita con voi altrimenti ci confondiamo un po e non ha molto senso ok allora ragazzi questa è una vecchia struttura a parte la che ho lasciato totalmente tutti gli ingressi vecchi perché qui ne manca uno ho già detto all'aggia lo devo lo devo scrivere adesso lo scriviamo perché ne manca uno qui qui che era il primo ingresso in break che è già avvenuto ok perfetto allora questo grafico ragazzi l'abbiamo visto intanto super ric numero uno vienci a trovare ovviamente allora e questo tipo di struttura degli ingressi che vedete l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa per quanto riguarda la chiusura del ciclo dell'albing dove dovevamo entrare se volevamo fare long period quindi veramente lungo periodo quindi ric questo è per te se volevi fare veramente lungo periodo in questo momento abbiamo avuto due ingressi perché l'abbiamo fatto qui questo video quindi uno e due sono stati gli ingressi di btc uno a break uno a dip quindi questo è il prezzo medio in questo momento che abbiamo poi c'è l'altro che qui guardate bene l'ha già impostato mesi addietro vabbè ovviamente sono sempre operazioni fatte e per formazioni ragazzi quindi mi raccomando non sono consigli finanziari ormai lo sapete e ci mancherebbe perché altrimenti qui usciamo di testa ogni volta a ripetere queste cose allora il ciclo dell'albing di bitcoin iniziato con il minimo del 18 del 2018 di dicembre sta teoricamente si completa intorno ai 1400 giorni questa cosa avviene un po da sempre c'è un ciclo da tre anni e mezzo più o meno insomma bitcoin fa così ragazzi poi è a poco storico quindi potrebbe essere una cosa ancora molto da disegnare quindi ancora da verificare però che succede se noi abbiamo un annuale e come vi dicevo che abnorme quindi diverso diciamo dal solito qui dovremmo avere vedete 322 giorni un po corto rispetto agli annuali standard di bitcoin mentre se arriviamo intorno a settembre siamo a 450 che sono gli annuali standard di bitcoin da quando è nato ora come vi ho detto se prendiamo in considerazione l'idea di avere due annuali insieme e quindi di portarci a dicembre del 2023 con la fine di tutto questo movimento cosa succede potremmo avere una struttura di natura ternaria questa ipotesi è un'ipotesi ciclica che spesso si va a confluire e assume la forma ternaria fatta così quindi io prima vi faccio il disegno ragazzi e poi ne parliamo ok perché in teoria dovremmo avere in pratica un ciclo di natura ternaria costruito con una parte di campana rialzista una seconda parte così e una terza così allora questa è la struttura ciclica in pratica non abbiamo un ciclo giusto che chiude a metà ma abbiamo tre sottostanti che formano due cicli uniti questa cosa qualcuno di voi che magari conosce l'analisi ciclica già la sta visualizzando è positiva nel breve per bitcoin perché porterebbe un rialzo più cospicuo che magari ha anche la possibilità di arrivare intorno ai 50 ragazzi quindi una cosa del genere perché non c'è niente di anomalo in una cosa così però poi succede questo in teoria cioè si va a configurare un due anni al ribasso perché abbiamo breccato questa zona quindi avendo breccato questa zona già con la prima struttura ciclica se dovessimo assumere questo tipo di forma nei prossimi anni vuol dire che facciamo su e giù così ma che poi scendiamo alla fine anche nel 2023 in pratica e facciamo un nuovo minimo a dicembre 2023 ragazzi quindi è meglio la questione originale cioè che facciamo il nuovo trimestrale e poi andiamo in chiusura a queste state nessuno sa quale delle due ipotesi è vera solo il mercato e in base anche a quelle che sanno le news degli eventi geopolitici perché questa anomalia potrebbe esistere adesso facciamoci un paio di domande questa anomalia potrebbe esistere nell'attuale situazione un'anomalia del genere può esistere nell'attuale situazione perché siamo in un exit strategy da parte della federal reserve in termini dei tassi di interesse e quindi una cosa del genere può essere veritiera proprio in vista della modifica della politica monetaria della prima volta che siamo in una fase di recessione anche dei mercati classici e quindi un ciclo lungo e ribassista di due anni quindi un bear market che non dura un anno come i vecchi di bitcoin ma due anche se fatto in forma maternale quindi a zigzag diciamo una cosa del genere è possibile perché la situazione macroeconomica globale ci sta portando a un rialzo dei tassi quindi questa cosa la teniamo in considerazione con una probabilità molto bassa ve ne ho voluto parlare perché così ragioniamo anche magari nei prossimi video nelle prossime settimane su questa idea e perché anche divertente no fare un po' delle ipotesi insomma ragionare insieme resto legato alla prima più che seguiamo da gennaio e quindi ciclo annuale che verso l'estate ottobre poi massimo va in chiusura lo vedremo comunque nell'arco dei pro delle prossime settimane quindi magari questa più lascia il tempo che trova e magari dura due settimane poi la puttiamo però ve ne ho voluto parlare anche per spiegarvi un po' come questo tipo di analisi ragazzi sono complesse anche da fare e a volte è difficile anche per me che sono da un'altra parte rendervi veramente tutto chiarissimo perché vi dovrei andare a mettere i puntini sulle isu talmente tante informazioni che poi vi confondo quindi a volte un po' lascio perdere cioè non dico alcune cose ragazzi non perché non voglio dirvele perché semplicemente poi aumentiamo troppo il flusso il carico informativo e confondiamo tantissime persone siccome il canale youtube è dedicato anche a una massa insomma di tante persone e anche in queste live noi ci rivolgiamo comunque a tante persone non voglio andare a confondere le carte poi sapete sono un trader minimalista e non mi piace assolutamente la confusione intanto vedremo una domanda ma scusa maro ma sei andato long su btc tra ieri e oggi sì sono andato long ieri stanotte stanotte sì però è un sistema di trading è un algoritmo che mi gestisce le posizioni hold quindi quando chiude io chiudo e te lo dico è quello che va chiuso ad aprile e è rientrato long mi ha ha fatto simpatia perché insomma al di là di tutte le analisi poi vedete le strategie i bot no che non hanno emozioni non guardano ragionano come delle macchine sulle regole che io ho impostato ed entrano long perché hanno visto il segnale non gli frega niente delle news di nessuno secondo me ha vita corta questo long però vediamo ciao maro pensavo alla seguente biociclica su btc due mensili corti causa forte ribasso il primo 11 aprile 3 maggio il secondo 3 maggio 27 maggio che ne pensi sì ci potrebbe anche stare ma in ogni caso siamo sempre un nuovo mensile quindi in questo caso tu faresti iniziare il mensile da 27 maggio in poi invece del 20 ci può stare assolutamente eh Marco benvenuto sono arrivato adesso va bene poi puoi rivederla indietro comunque la live eh puoi consigliarmi un bot per fare trading ciao Simon allora ehm i bot sono argomento per trader pro eh non usateli in nessun modo se non siete dei professionisti del trading io faccio bot da eh dieci anni ragazzi e non sono validi per chi non è un utente schillato io ve lo dico poi fate quello che volete rompetevi la testa ai muri come vi piace a voi però personalmente io ho questa opinione lo dico anche in academy dove ci sono anche i bot pubblicati e a tutti quelli che si iscrivono gli dico usateli quando vi siete già formati perché il bot va compreso quello che fa intanto tu non puoi usare nessun bot eh senza che ci sia una strategia perché il bot è una macchina è un software che esegue degli ordini ma quali ordini esegue? Quali ordini è la tua strategia di trading quindi non esistono dei bot che tu ti agganci e in automatico ti fanno fare dei soldini è una fandonia che si dice in giro non funziona così perché c'è un processo all'interno del mercato che si chiama asimmetria eh che viene autocolmata dalla dai bot quindi quando si creano dei bot anche se sono profiqui eh profittevoli per un tot di tempo man mano che tutti li usano quella profittabilità scompare per una questione intrinseca all'interno della eh incrocio di grande offerta qui parlo così ragazzi eh diventa un casino quindi fidati e basta eh il bot eh sono strategie di trading affidate ad una macchina quindi se sei programmatore sai scrivere in python te li puoi scrivere da solo ma se non sai quali strategie ti porteranno a fare gain a cosa serve? Un bot? Il grid bot per esempio ragazzi che io ho utilizzato anche da un anno a giugno fanno un anno e vi faccio vedere i risultati ha performato come una se fai un po' meno quindi non serve a niente e se prendete il mio video cioè non è che non serve a niente serve a quello e se prendete il mio video dove vi spiegavo il grid bot bla 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 poi ovviamente può essere modificato e lavorato questo sì è aumentare i rendimenti io ho voluto fare un video su grid bot proprio che fosse più semplice possibile eh utilizzabile da chi appunto voleva farlo senza eh grande informazione però quel tipo di bot poi alla fine lascia il tempo che trova perché fa la stessa cosa più o meno di una se fai si può utilizzare come un'alternativa ci mancherebbe se è tutto fa fa gioco però non puoi usare dei bot eh se non conosci il trading è come si investe in generale eh ci sono comunque dei bot che fanno dei delle operazioni puoi provarli a me non piace e non conosce la strategia di fondo io ho mai usato bot di qualcuno sono i miei e basta ragazzi ovvio che poi ognuno un po' va bene la vita corta e rialzo che intendi avere un paio di settimane sì esatto eh allora andiamo ecco questa è una domanda ciclica ma secondo te è possibile che btg abbia iniziato un nuovo t più cinque invece lo spike del dodici quindi sui massimi dici eh i massimi sono completamente difformi se guardi adesso per esempio il th conno e btc ti rendi conto della totale difformità eh sarebbe incasinare ancora di più l'incasino praticamente vuoi fare un macello vuoi fare allora eh insomma andrebbe visto eh adesso che lo guardiamo subito e vediamo il dodici il dodici il dodici il dodici eh sulla parte alta di qui mh va t più cinque non saprei sinceramente non so come lo stai calcolando quindi mi mi trovi un po' perplesso perché non so come lo stai calcolando comunque il concetto non cambia tanto un ciclo è un ciclo lo vedi invertito lo vedi al contrario cioè guardano in trasversale come ti pare a te alla fine non cambia niente quello che serve secondo me ragazzi è aspettare qualche giorno per comprendere se siamo nella più eh della ehm t più cinque nuovo iniziato adesso però è negativa appunto la view ternaria che ti ho detto sarebbe estremamente negativa rispetto a ehm all'altra e se la fa però ragazzi abbiamo anche dei punti di arrivo di break per esempio uno fra tutti questa zona qui questa zona è un punto d'arrivo di questo eh swing al rialzo e vi dico già qual è l'eventuale target l'eventuale zona in pratica è trentotto mila dollari quindi questo perché ragazzi perché incontra le mie medie mobili le classiche e ehm è anche vero che qui eccolo sì infatti stavo vedendo che erano troppo brevi eh invertirle incontra questa zona qui la prima America ed è quaranta infatti ragazzi non è trentotto però nello sviluppo in pratica vi assicuro che non ci arriva domani quindi queste due medie scenderanno nelle prossime settimane e si avvicineranno intorno a zona trentotto trentanove mila dollari che è il ehm la struttura eh di rimbalzo eh di questo ciclo trimestrale quindi questo ciclo trimestrale se dovesse essere confermato da qui inizierebbe a eh potrebbe arrivare arrivare a questo target prima di iniziare la fase finale di chiusura di tutto l'annuale allora se questo è la sua struttura eh ben venga perché se saliamo un pochettino ci proteggiamo anche da un'eventuale fase di basso altrimenti se sale di più potremmo poi andare a valutare questa struttura di ciclia tre che però è peggiorativa perché come vi dicevo ragazzi avendo breccato il minimo in questa zona poi facciamo boom e boom quindi mh non mi piace una cosa del genere ovviamente quando prendiamo proprio sul sicuro una visione del genere se per settembre ottobre siamo molto alti tipo siamo qui se siamo in questa zona sicuramente non è non andiamo a a chiudere poi l'annuale a meno che non lo fai in tre giornate quindi tanto bitcoin tira fuori queste cose assurde sono le tre giornate va bene allora eh comunque ci potrebbe essere una nuova brutta notizia ma una notizia repositive tra Tauan e Cina sì l'ho vista quella storia di Tauan e Cina allora i catalizzatori ehm il catalizzatore è qualcosa che va a influire su un meccanismo già innescato quindi qualora ci sia ehm un catalizzatore del genere quindi negativo si va a scendere direttamente ma ragazzi questa è la più più probabile quindi la news in questione è un catalizzatore di una cosa già avviata lo so che è un po' difficile da comprendere ragazzi ma non sono le news che influenzano il mercato e come il mercato le prende le news perché a volte anche i conflitti belli ci possono essere presi ad esempio come news positive perché il poi c'è la ripresa la ricostruzione eccetera il mercato va dove deve andare e le news lo spingano in quella direzione questo è il concetto quando il mercato decide che non ce n'è e qualsiasi news l'avete male ragazzi perché c'è sempre col per il concetto della relatività un modo in cui si possono vedere delle cose è chiaro che una news come l'invasione di Taiwan un po' di panico no ma lo genererà quindi questo non c'è dubbio come la vedi la possibilità di un rally del rally di fine anno beh se dovesse avvenire sarebbe in concomitanza alla perfezione con il concetto che ti dicevo della chiusura del ciclo annuale quest'estate eh o a ottobre massimo perché eh perché poi ci riparto un nuovo ciclo e quindi potrebbe fare un mini rally o verso novembre diciamo da novembre poi però insomma da qui a fine anno mi pare che ce ne sia va bene ragazzi allora ultimi minuti con le domandone così eh anche per oggi abbiamo dato vi ho fatto vedere queste ipotesi ora non andate in giro a dire che io ho detto che si sale fino a domani ma perché poi si tagliate diciamo le cose solo che vi interessano a voi non è diciamo proprio il massimo allora dite eh mi raccomando ragionate sulle cose fate il ragionamento giusto va bene ehm e e va bene così allora andiamo avanti per la questione qual è il livello che si è breccato o validerebbe un eventuale t più cinque iniziato a ehm ai 12 maggio eh lontanissimo il livello e non hai neanche una conferma più che altro ragionerei in termini di tempo eh che piuttosto che di livello comunque il livello che si è invalidato potrebbe essere questo swing intorno ai cinquantamila questa zona qui cinquanta cinquantadue sopra qui sicuramente non non siamo in un nuovo trimestrale quindi del presente annuale anche perché qui è una semestrale che è iniziato quindi se ce ne andiamo a salire a toccare questa cosa eh ovviamente siamo in un t più cinque nuovo da qui corto chiaramente però qual è il discorso che anche se fossimo in un t più cinque nuovo potrebbe non arrivare mai qui perché teoricamente sarebbe un t più cinque di un ciclo biennale già ribassista e quindi magari fa una cosa del genere capito e questo è il discorso e potrebbe anche non arrivarci mai nonostante eh sia magari anche un t più cinque ecco per cui eh preferisco in questo caso ragionare anche sul timing no vedere un po' come siamo messi con il time eccetera bella domanda comunque ok ehm andiamo avanti all in su BTC ed ETH giusto ciao Luca ciao all in su BTC tu lo sai che ho pubblicato ieri ma non su ETH e ETH ancora niente va bene eh Ripple non l'ho guardata già da un po' ma non mi va di riguardarla perché è una cripto totalmente decorelata all'altra però non è facciamo una cosa mi è stuzzicato la mia curiosità andiamo a vedere Ripple se fa cose strane perché non l'ho guardata magari sta facendo cose strane e me la sono persa ho bisuata diciamo recuperare un po' di spazio eh però non mi pare che Ripple lo sia ok qua insomma niente di di anomalo tra l'altro ha incontenibile la questione di Ripple cioè è difficilissimo andare a disegnare dei cicli su questa criptovaluta e perché ragazzi non ha veramente ha ha un'oscillazione estremamente stavo cercando un storico più lungo ma non guardandola mai non so neanche quale exchange abbia lo storico più lungo e poi iper volatile veramente ragazzi cioè non non riesco a cioè questa cripto vabbè se poi dovesse invertire il trend potrebbe riprendere un trend però eh la dovete usare per trading una cripto del genere perché è incomprensibile da molti punti di vista e soprattutto a questi spike improvvisi bam bam è molto difficile andarla a a strutturare se anche la vediamo da un punto di vista di ciclo a con time frame 1d 1d non cambia niente perché anche lei da luglio vedi ha un ciclo annuale ribassista quindi siamo nella stessa identica logica di tutte le altre cripto in più si muove in questo modo estremamente erratico è difficile tradare eh Ripple ragazzi è molto difficile grazie Admas grazie eh andiamo andiamo avanti vediamo un po' se ci sono altre domande se volessi fare un tuo corso basic per imparare basic strategia mi serve qualche base prima di iniziare posso dire allora guarda io ho l'ho chiamato basic e molti me l'hanno criticato perché in realtà è un altro anzoni basic eh secondo me è un basic però questo qui e mh però devi qualcosa la devi sapere cioè che vieni lì e non sai nulla di nulla eh nì allora diciamo più o meno devi sapere di che stiamo parlando magari se hai fatto qualche operazione in Cina va bene anche se nel nuovo ho messo su comunque dei moduli dedicati proprio che parlano della piattaforma dell'exchange prima di andare proprio nello specifico però ti ti dico che in realtà basta che tu abbia fatto qualche trade e sappia di cosa stiamo parlando il resto è meglio che non lo sai perché così inizi pulito come si suol dire perdi metà del tempo anche a togliere informazioni che sono totalmente inutili e quindi magari stai meglio perché non avevi mai studiato a volte è meglio così allora io rimango dell'idea della necessità di una candela di chiusura settimanale sulla EMA eh in chiusura settimanale sulla EMA 200 weekly ciao Dark perché questa EMA 200 weekly che ha questa EMA 200 weekly cioè intendi che Bitcoin deve andare a toccare a di sopra a di sopra della EMA 200 vediamola un po' nonno la vedo veramente da tanto tempo sarà più o meno credo simile alla alla media normale allora mettiamo sull'esponenziale vediamo dove va ok ragazzi quindi tu dici che eh bisogna toccare questa EMA intanto il bisogna toccare non ha molto senso comunque intorno ai 26 27 secondo me invece se va in chiusura dell'anno questa EMA la brecca e ci scende sotto che invece è molto più in una struttura eh consona a quello che è il significato vero delle medie mobile che non è quello da supporto le medie non sono un supporto a meno che non vengono citate in questo modo ed è la 274 per le cripto a ragione Roberto perché la le criptovalute sono opening eh tutti i giorni e quindi in teoria dovremmo avere una media eh a 274 daily però ehm Roberto non weekly eh dark parlava della 200 weekly quindi parlava in sostanza di 200 settimane che teoricamente sarebbero quasi quattro anni quasi quattro anni quindi 284 in questo caso non ha senso perché ovviamente non ha eh non ha eh la logica insomma delle settimane ma dei giorni va bene eh andiamo ad altre domande quindi comunque secondo me eh dark invece di utilizzarla come supporto se ci arriva secondo me ci chiude sotto l'annuale eh e anche ci chiude l'adding eh andiamo avanti con altre domande ciao Mauro cosa ne pensi di Shiba Inu? Mi pare che si è uscita una eh news oggi se non sbaglio che è scappato tutto il team correggetemi se sbaglio perché non perdo tempo ad analizzare queste cose Shiba per me è solo ed esclusivamente una criptovaluta dove fare trading speculativo per il resto eh non non ha un progetto non è una cripto non è bitcoin quindi ehm non lo so ragazzi volete usarla boh usatela ma cioè state lì a aspettare cosa che cresca Shiba boh cioè senso sulla base di che? Cioè insomma trilioni di capitalizzazione poi ovviamente i pump li fanno perché queste cripto sono estremamente manipolate quindi ci può stare il pump e il pump è interessante perché tu lo usi come come trading no? E quindi insomma lo usi per fare allora questa criptovaluta dal famoso pampone gigantesco di qui è down eh del 85 per cento più o meno eh quindi non so boh ragazzi poi sicuramente chi l'aveva 0,00 ha fatto un sacco di numeri però non sono cripto idonee per una logica di holding sono cripto idonee per fare del trading speculativo o e soprattutto diciamo se ci sono dei pump cercatevi poi uno short per quando arriva perché poi di solito va giù allora ma Mauro chiudiamo con qualche cenno bullish stavolta dai allora il cenno bullish c'è per il nuovo trimestrale allora io eh in effetti sì dai chiudiamo poi così rispondo alle ultime due domande e chiudiamo poi con un cenno bullish eh ciao Silvia eh Maurizio no ma Mauro no Maurizio non sono Maurizio ma Mauro allora Adam eh vediamo Adam perché oggi ha pampato come si suol dire in effetti eh alla struttura di Adam non cambia rispetto alle sue logiche Adam è costantemente entra al ribasso per via della struttura ciclica che era già invertita rispetto al suo annuale eh siamo a trecentoventidue anche qui tutto dipende da dove chiude l'annuale se l'annuale deve arrivare a settembre questo è semplicemente un nuovo ciclo come il precedente e fa così come tutti gli altri eh l'unico modo per riprendere questa criptovaluta con un trend differente ce l'ha in base all'inizio di un nuovo ciclo annuale non c'è nessuna soluzione la stessa cosa anche per bitcoin quindi otti più cinque nuovo eh il tipo cinque ragazzi è il ciclo annuale eh nuovo su ehm tutte le cripto o niente di di fatto va bene eh allora conviene convertire gli etch in btc medio termine sembra avere più forza io l'ho fatto ma tu non devi copiarmi e neanche voi perché io l'ho fatto in base a una logica che è la mia personale ed esclusivamente indirizzata a un obiettivo a un obiettivo solo l'ho detto anche a tutti a Roma ridurre la volatilità del mio portafoglio come vi dico da tre mesi infatti eh ha funzionato perché ragazzi visto il casino che c'è stato nel settore cripto non avere nessuna criptovaluta non vi nascondo che oltre che ero fuori addirittura con metà dei bitcoin in hold che sono rientrato appunto ieri ma ero fuori anche da tutte le criptovalute durante un crash del 60 per cento poi vabbè voi mi amate l'holding e tutta la questione legata all'holding però io dico anche che a volte magari mh un po' avere qualche informazione aiuta perché comunque io sono entrato anche ieri ragazzi magari non va bene l'operazione su bitcoin però io sono entrato ieri con un 30 per cento di sconto e Ethereum addirittura sono al 35 per cento di sconto se rientro oggi quindi il concetto è convertire Ethereum in BTC io l'ho fatto per ridurre la volatilità ridurre la volatilità del mio portafoglio questo è il mio obiettivo poi dipende voi che volete fare se volete guadagnare di più con bitcoin probabilmente non avviene così però secondo me è più sicuro stare su bitcoin che su Ethereum per una serie di motivi che sono quelli che ti ho detto perché c'è questo merge in mezzo non si capisce bene se dovesse breccare quel livello che vi ho mostrato ieri succede un macello su Ethereum e allora è meglio stare su bitcoin che non significa non stare su una cripto per cui anche se sale e oggi per esempio è salito io salgo comunque con Bitcoin non salgo magari come Ethereum che può salire di più se tutto va bene ci mancherebbe può essere ragazzi però io preferisco rischiare di meno su una cosa del genere in un momento difficile quindi riduco la volatilità questo è il mio concetto e il motivo per il quale ho deciso di switchare gli ETH e in BTC ne ho ancora qualcuno messo in una piccola DeFi quindi qualche Ethereum ce l'ho comunque ragazzi però non ho una parte grossa ho comunque un sistema holding anche un trading system holding anche su ETH se dovesse entrare long su ETH io compro di nuovo ETH con quel sistema va bene però quello è una strategia quindi se ho quella quella strategia va bene allora ragazzi andiamo a a vedere un po' il tutto che è insomma beh io vi lascio vado a vedere Top Gun e ci devo andare che io mi sa che vado domani o dopo domani lo so vediamo ragazzi va bene ok no chiudiamo chiudiamo qui ragazzi che devo scappare Ares fatto corsi basic training e giro ma nulla di concreto il training on è fatto benissimo grazie grazie ancora una volta con ragazzi mi avete fatto mille complimenti per il corso nuovo eh sono veramente contento e in effetti eh alcune cose sono state fatte veramente molto bene soprattutto la differenza di me come parlo da prima dopo anche perché quello vecchio era bellissimo io sono molto affezionato quello vecchio ma questo nuovo è molto concreto mi hai fatto troppo piacere scambiare parole con te a Roma ciao Ryan ciao sei un grande grazie non so chi sei tra i migliaia di persone che abbiamo visto ma eh dal vivo è sempre meglio allora io vi lascio con una questione bullish perché mh non mi ricordo adesso dove sei insomma mi hai chiesto dici lasciaci con una eh idea bullish allora qual è qual è la questione bullish eh la questione bullish è questa eh il fatto che bitcoin riesca a salire in questo ciclo trimestrale o insomma che sia più possibile al punto tale da essere molto alto quando ci potrà essere magari una chiusura del ciclo eh annuale perché ragazzi perché a noi se dovesse andare in chiusura del tutto il bear market con un minimo leggermente vicino o inferiore di poco al precedente che fatto il 12 maggio non è che ci cambia più di tanto l'importante magari non scendere a 16.000 dollari cose del genere se dovesse essere così vuol dire che siamo in ottica bullish a volte non è eh bene sperare sempre che tutto faccia bam 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 perché eh a volte bisogna anche ragionare su quello che si vive in un determinato contesto un contesto del genere a livello macro con il rialzo dei tassi la crisi dei mercati classici eccetera incrociamo le dita un fallimento incredibile come quello di luna il progetto la il fork che ovviamente ancora più manipolato del progetto stesso eh allora ci lascia ben sperare cosa che bitcoin ha retto un ennesimo schiaffone se bitcoin regge un bear market così con i mercati old con il rialzo dei tassi per la prima volta nella storia con un nasdaq che fa meno 32 per cento ragazzi meno 32 per cento nasdaq 100 ha fatto di ribasso ok se regge e non è in male ragazzi e se regge lo fa solo e unicamente perché i fondamentali di bitcoin sono solidi va bene ragazzi è per questo che lo fa quindi io penso che era il vero il vero punto di vista rialzista e bullish sia guardare i mercati di oggi in questo ottica e vedere come si comportano vedere un po come noi il nostro animale domestico che gira per casa è maturo non è maturo ce la fa non ce la fa intanto ragazzi vediamo come va questo ciclo mensile e incrociamo le dita che possa eh essere il più alto possibile in maniera tale che se anche dovesse andare poi tutto a rotoli non va malissimo insomma è occhi puntati non continuo a dirvelo continuo a dirvelo occhi puntati sulla reggina ragazzi perché il livello di 200 billion è un livello chiave per mantenere questa struttura altrimenti andiamo in vero panic selling sul mercato delle cripto e sarà un sangue il sangue sotto i ponti vero quello vero questa volta va bene quindi mi raccomando forza bitcoin io eh continuo ad essere positivo vediamo se riusciamo a mantenerci più alti possibili in questa fase per oggi è tutto e noi ci vediamo domani ragazzi va bene ok intanto ciao e vi eh abbraccio tutti quanti non dal vivo eh soprattutto la concessione che cambiava di volta in volta va bene dai hai fatto video di una cosa non capisco eh no dark non ci sono questi video come corsi c'è sta lo facciamo in academy e nel corso basic ehm su youtube non c'è un corso di ciclica ma sarebbe impensabile secondo me realizzarlo lì eh allora niente oggi ma non vuole leggere il mio commento qual era il tuo commento non l'ho letto scusami mi dispiace ma mi è scappato ma devo scappare io perché è un po' tardi quindi mi allora vediamolo qui allora sto seguendo bcc grafici 1h quindi segui in intraday e guardi cicli di circa due giorni due giorni sono giusti per questo time frame ma nei pump come questa non capisco se li allunga parecchio o li chiude in barra eh allora eh molto semplice quando un intanto tu stai facendo trading su un ciclo di due giorni quindi è pieno di rumore pieno di casino quindi l'analisi ciclica su un ciclo da due giorni un giorno ok accostata sempre ad analisi tecnica ci sta che ci ragioni sopra lo faccio pure io però ricordati che è stracolma di rumore piena di imperfezioni piena di di avvisione standard di volatilità quindi quello che vedi può essere frutto di immaginazione però sostanzialmente la regola generale è che quando ehm il mercato è molto forte fa una chiusura ciclica o in barra di congestione quindi non vedi mai il minimo eh oppure allunga molto il ciclo e quindi magari invece di un giorno di ventiquattro ore ti fa un giorno da trenta ore una cosa del genere eh esistono anche le possibilità di avere delle idee di numeri standard un ciclo che dura da qui a qui è sbagliato teoricamente ragione così nella ciclica ma a volte serve perché se non sappiamo cosa fare ragazzi però in realtà non ha molto senso perché i mercati non seguono queste logiche così però una regoletta ogni tanto serve questo è il discorso va bene allora ti ho risposto hai visto che ti ho risposto ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao